Buonasera a tutti. Questa sera, come dire, siete le cavie di una lezione su cui ho lavorato e dovrei lavorare forse ancora un pochino, giudicherete voi. Il fatto sta che non è uno degli argomenti di cui mi occupo di solito, le cause finanziarie della rivoluzione francese, ma è una cosa che mi ha sempre incuriosito e qui ho colto l'occasione di provare a capirci qualcosa di più. Non sono sicurissimo di aver capito tutto, ma quello che è certo è che se uno va a vedere come mai è scoppiata la rivoluzione francese, ci si rende conto che i motivi sono tanti. Certo, ci sono libri e libri che si intitolano le cause della rivoluzione francese e si parla del fatto che il popolo odiava i privilegi dei nobili e del clero, che in Francia c'era una ricca borghesia di affari, di industria che stava venendo fuori e che però non contava niente politicamente e che voleva contare qualcosa di più. E poi si legge che importano anche la miseria dei poveri, i cattivi raccolti, il prezzo del grano e quindi del pane che schizza le stelle e quindi il malcontento, le rivolte popolari, la fame. Ma in realtà la cosa che noi racconteremo questa sera è un'altra, quello che proveremo a raccontare è il colossale buco di bilancio della monarchia francese, che è accumulato in un secolo di spese folli e tassazione delirante, che alla fine costringerà il re a quel passo che sappiamo tutti che è l'inizio della rivoluzione francese, la convocazione degli stati generali. Io giurerei che ce la ricordiamo tutti questa formula dai tempi della scuola. Cosa vuol dire? Perché è così drammatico? Proveremo a dirlo verso la fine di questo incontro. Ma certamente se il re Luigi XVI ha dovuto a un certo punto convocare gli stati generali senza sapere che la conseguenza sarebbe stata che nel giro di quattro anni gli avrebbero tagliato la testa, è per via della catastrofe del bilancio della monarchia francese. E quindi proveremo a vedere questo e vedremo come di fronte al disastro del buco di bilancio la monarchia francese ripetutamente abbia cercato la soluzione affidandosi a economisti che avevano la ricetta giusta, a economisti che sapevano come bisognava intervenire per riuscire a risollevare la situazione. Insomma, vedremo come l'idea che si possa gestire l'economia e anzi risollevarla sulla base delle teorie degli economisti non è certo una novità dei tempi più recenti. Il Settecento francese è pieno di esempi appunto di questi tentativi. Siamo dunque in Francia nel Settecento. Siamo in una monarchia assoluta. Cosa vuol dire una monarchia assoluta? Vuol dire che almeno in teoria il re può fare tutto quello che vuole. Non c'è nessun passaggio formale per cui debba chiedere l'approvazione di qualcuno. Può dare ordini senza bisogno di giustificarli, per volontà del re. Con un biglietto che si chiamava la lettre de cachet, il re può far arrestare chi vuole, senza giustificazioni, e farlo chiudere la bastiglia per tutto il tempo che vuole, anche a vita. Il re può emanare tutte le leggi che vuole, senza dover avere il controllo di nessun Parlamento, di nessun Ministero, niente, e può imporre le tasse a suo piacimento. Nel Medioevo non era così, non la faremo lunga, ma le monarchie non sono sempre state così. Per secoli i re hanno avuto dei poteri nel regno che bilanciavano in loro la grande nobiltà, ma invece dal tempo almeno di Luigi XIV, il re sole, in Francia la monarchia è assoluta. Avete presente il re sole? Lo stato sono io. Cosa vuol dire lo stato sono io, appunto? Certo, esistono, non è che non esistano consiglieri, segretari, ministri, ma sono tutti agli ordini del re. Sulla monarchia francese all'inizio del Settecento, alla monarchia del re sole, noi abbiamo, fra l'altro, una testimonianza affascinante nelle memorie di un grande nobile dell'epoca. Si chiama il duca di San Simon. San Simon è un nobile che attraversa tutta l'epoca della maturità e della vecchiaia del re sole, poi vivrà ancora a lungo, fino alla metà del Settecento, scrivendo le sue memorie, che sono un'opera fluviale, sette, otto volumi di mille pagine l'uno, piene di pettegolezzi, di aneddoti e anche di riflessioni su cosa voleva dire vivere sotto la monarchia assoluta del re sole, di Luigi XIV. E San Simon è un esponente di quelle forze nel regno che in realtà non sono per niente contente che la monarchia sia assoluta. Al tempo della rivoluzione saranno i borghesi, gli intellettuali, gli illuministi che protesteranno. Qui siamo all'inizio del Settecento, quasi un secolo prima. Quelli che protestano sono i grandi nobili, i principi, i duchi, come San Simon, che erano abituati a contare molto nel regno e l'idea che invece il re è un potere assoluto dà fastidio soprattutto a loro. San Simon traccia un quadro terribile degli ultimi anni del regno del re sole. Gli anni in cui la Francia è impegnata in una guerra disastrosa contro tutto il mondo, la guerra di successione spagnola. Questa guerra va malissimo. E' interessante, San Simon, che scrive molti anni dopo, dice che quella guerra andava malissimo a partire, individuo a un momento preciso, a partire dalla catastrofe di Torino. Avete presente l'assedio di Torino del 1706? L'abbiamo sentito tutti, no? Pietro Micca, poi arriva il principe Eugenio e libera la città dall'assedio francese. Noi lo conosciamo tutti a Torino, quell'episodio. E potremmo anche pensare che sia però un episodio che interessa a noi perché siamo torinesi e che di per sé sia una vicenda un po' minore, un po' provinciale. San Simon decenni dopo dice la rovina della Francia è cominciata con la catastrofe di Torino. Quando siamo stati buttati fuori dall'Italia. Da quel momento in poi la Francia non conta più niente in Italia. E da lì è cominciata la nostra rovina. Siamo nel 1710, quattro anni dopo il disastro di Torino. La Francia è in miseria. È appena uscita dall'inverno più spaventoso del secolo. Non c'è un soldo. Il buco di bilancio è terrificante. Il re è indebitato fino al collo e di conseguenza non paga. Non paga i debiti e non paga gli stipendi. L'esercito che sta combattendo al fronte non è pagato. A dire il vero il re non è che non paga proprio. Non paga in moneta. Dovete tenere presente che siamo in un'epoca in cui non hanno ancora inventato la carta moneta i biglietti di banca che fino a ieri erano una forma normale moderna del denaro adesso abbiamo scoperto che sono una forma arcaica arretrata la stiamo superando grazie alla moneta elettronica ma fino a ieri la carta moneta era la modernità. Nella Francia ad inizio settecento la carta moneta non l'hanno ancora inventata. La moneta è fatta di metallo possibilmente prezioso. La moneta che conta qualcosa è la moneta d'oro d'argento e circola e la gente la accetta perché si sa che l'oro e l'argento hanno un valore che nessuno gli potrà mai togliere. Certo circola anche una monetina più spicciola perché non puoi andare al mercato a comprare sei uova e pagare con uno scudo d'argento che vale 50 euro. Quindi circola anche una monetina più spicciola e quella la gente la accetta per convenzione bisogna accettarla ma la moneta seria con cui si fanno gli affari importanti è d'oro o d'argento. Questa moneta nella Francia del mille settecento dieci non circola praticamente più. Chi ce l'ha se la tiene stretta e il re paga con promesse. Paga con cambiali sostanzialmente con pagherò. Il re paga con biglietti stampati alla zecca si chiamano biglietti della zecca dove c'è scritto la zecca di sua maestà promette di pagare fra un anno al portatore di questo biglietto la somma di mille franchi. Il re li mette in giro e quando è il re che li dà bisogna accettarli per forza. Dopodiché queste cambiali non le vuole nessuno. nessuno ci crede che veramente fra un anno potrò andare alla zecca e mi conteranno le mie monete d'oro in cambio di questo pezzo di carta. Quindi cosa succede? Che la gente cerca di disfarsene. Io avrei qui un biglietto della zecca da mille franchi ma se mi dai cento franchi in oro io sono contento di passarti il biglietto. Quindi chi ha i soldi veri li tiene nascosti i biglietti circolano perdendo continuamente valore gli unici che ci guadagnano sono i banchieri che possono rastrellare queste cambiali e poi giocando sui cambi e avendo delle entrature al governo riescono a arricchirsi mentre tutti gli altri sono in miseria. Il re non paga in compenso riscuote le tasse raddoppiano quasi ogni anno. Dice Saint-Simon il re cavava sangue a tutti i suoi sudditi senza distinzione li spremeva fino al pus e arricchiva un infinito esercito di appaltatori e impiegati delle tasse fra le cui mani restava il grosso del ricavato. Perché c'è quest'altra cosa da spiegare? Noi oggi siamo abituati a pensare che uno dei problemi dello Stato moderno è che ha troppo personale troppi dipendenti pubblici troppa burocrazia nella Francia del Settecento il problema non c'era la burocrazia era poca quindi lo Stato non riscuoteva le tasse direttamente non aveva gli impiegati per farlo. Quindi la riscossione delle imposte delle gabelle era appaltata a imprenditori privati a finanzieri i quali anticipavano i soldi e poi si occupavano loro di riscuotere le imposte le tasse le gabelle le decime c'era una foresta di imposte diversissime impossibile capirci qualcosa ma gli appaltatori ci capivano e una volta anticipato al re il minimo indispensabile riscuotevano loro con un esercito di impiegati del fisco che però appunto non erano impiegati pubblici erano dipendenti di questi appaltatori privati i quali a un certo punto si organizzeranno in una grande società la ferme generale l'appalto generale un consorzio di banchieri che riscuotono con i loro sistemi e senza nessun controllo le tasse in tutto il regno e dunque San Simon dice il re aumenta aumenta le tasse ma alla fine i soldi rimangono sempre in tasca agli appaltatori a questo punto il ministro delle finanze De Marais capisce che bisogna fare qualcosa decide di proporre una riforma vi accorgerete più di una volta nel corso di questa lezione che parleremo di cose che a noi sembrano familiari il ministro delle finanze dice bisogna fare la patrimoniale bisogna fare la patrimoniale perché imposte proprio patrimoniali non ce ne sono il grosso delle imposte sono capite gabelle ogni commercio la roba l'iva praticamente le accise qualunque cosa uno compra vende una parte va via in gabelle poi ci sono delle imposte sulla ricchezza che però vengono distribuite alla buona il comune decide allora dividiamola fra gli abitanti a quello lì gli facciamo pagare questo nessuno è tenuto a fare la dichiarazione dei redditi o del patrimonio non c'è una patrimoniale proporzionale davvero alle ricchezze il ministro Desmarais propone di introdurre la patrimoniale in passato era già stata fatta questa proposta ma avevano proposto dei finanzieri ben intenzionati avevano detto invece di questa foresta di tasse gabelle aboliamo tutto e facciamo la flat tax non l'avevano chiamata così perché al tempo in Europa si parlava francese non inglese ma avevano detto facciamo un'unica imposta una sola sul patrimonio facciamo la patrimoniale e aboliamo tutte le altre era una proposta ben intenzionata naturalmente gli appaltatori delle imposte non erano contenti tutto il mondo della finanza e della banca si oppone e la proposta non passa adesso nella situazione disastrosa di quegli ultimi anni di regno del re sole il ministro De Marais propone di nuovo di introdurre la patrimoniale ma non abolendo tutte le altre aggiungendola a tutte le altre a questo punto uno vede come funziona il processo decisionale in una monarchia assoluta l'ho detto il re può fare quel che vuole naturalmente il re non è che si intende di tutto ha una serie di collaboratori di consiglieri per le finanze esiste il consiglio delle finanze presieduto dal ministro delle finanze il quale presenta al re le proposte il re decide ma lì ci sono i tecnici allora il ministro De Marais che ha avuto questa brillante idea di introdurre la patrimoniale per prima cosa sa che deve farla studiare da una commissione in modo da poter andare dal re e dire ho un progetto che è stato approvato dagli esperti dai tecnici perciò il ministro delle finanze nomina una commissione di tecnici per esaminare il progetto ci mette suo fratello suo genero i suoi due cognati la commissione approva il progetto a questo punto il ministro va dal re dicendo ho qui il progetto per la riforma delle tasse approvato dai migliori esperti del regno è interessante l'obiezione che fa a questo punto Saint-Simon che ci racconta nelle sue memorie questo di retroscena è interessante perché ci fa capire una mentalità diversa dalla nostra loro sono abituati a pagare tasse all'infinito spremuti appunto avviene fuori non solo il sangue ma il pus dice Saint-Simon però nessuno finora era costretto a rivelare il suo patrimonio si andava tutt'al più a stima invece questa nuova tassa prevede che si facciano accertamenti e che ognuno debba dichiarare il suo patrimonio questa cosa a cui noi ci siamo abituati come normale a Saint-Simon sembra una cosa da incubo inconcepibile dice ma capite questa cosa svelerà i segreti di tutte le famiglie le cose tenute accuratamente nascoste in ogni famiglia provocherà litigi furibondi tra marito e moglie tra fratelli metterà in piazza faccende private rovinerà il credito perché chi potrà ancora ottenere credito se si saprà davvero qual è il suo patrimonio Saint-Simon dice perfino il re si è spaventato il re benché fosse abituato alle imposte più enormi non riuscì non riuscì a non spaventarsi di questo progetto dice perfino i suoi domestici si accorgono che il re ha qualcosa che lo ruote il re è insolitamente preoccupato gli sembra spaventoso costringere i suoi sudditi a questa cosa alla fine è talmente tormentato che si rivolge al suo confessore un gesuita il padre l'hotelier il confessore del re è una vecchia volpe che gli dice farò esaminare la questione dopo qualche giorno il padre l'hotelier arriva dal re Luigi con un parere scritto dei teologi della Sorbona la massima autorità teologica del regno i quali teologi della Sorbona dichiarano che in realtà tutti i beni dei sudditi appartengono al re perciò quando il re sta prendendo roba sua e non deve assolutamente avere degli scrupoli di coscienza da quel momento tutti si accorgono che il re è di nuovo sereno e di buon umore Saint-Simon è sconvolto vedete che cos'è un re abbandonato in mano a un tale confessore e che parla solo con lui e cosa diventa uno stato abbandonato in tali mani il re messo tranquillo dal padre l'otelier e dal parere della Sorbona non dubitò più che tutti i beni dei suoi sudditi non fossero suoi e che quel che non prendeva e che gli lasciava era per pura grazia siamo qui veramente al vertice dell'idea di monarchia assoluta il re non solo può decidere qualunque cosa ma è tutto suo a questo punto la prassi prevede però comunque l'approvazione del progetto da parte del consiglio delle finanze il consiglio delle finanze è composto da ministri principi consiglieri è presieduto dal ministro delle finanze ma si riunisce in presenza del re di nuovo come funziona la monarchia assoluta a corte tutti sanno che si prepara questo progetto ma nessuno l'ha letto sono tutti terrorizzati un bel giorno si riunisce il consiglio delle finanze il ministro arriva col progetto nella borsa ma mentre lo tira fuori il re prende la parola per primo il re prende la parola e dice voi lo sapete che viviamo un momento difficile i problemi sono enormi il ministro ha preparato un progetto per trovare nuove risorse e io il re l'ho letto e devo dire che è ottimo questo progetto e sono sicuro che anche voi quando l'avrete sentito sarete d'accordo a questo punto il ministro prende la parola spiega che è tutta colpa della guerra del nemico che si rifiuta di fare la pace la Francia rischia di essere invasa è assolutamente indispensabile ricorrere a mezzi estremi ma se introduciamo questa nuova tassa andrà tutto bene il re potrà pagare i debiti potrà pagare gli stipendi il denaro entrerà in circolo tutti saranno più ricchi fatto questo fervorino il ministro si mette direttamente a leggere l'editto che è molto lungo lo legge tutto quando ha finito nessuno parla siccome nessuno parla il re si rivolge al consigliere più anziano e gli chiede un parere consigliere più anziano dice maestà io veramente per dare un parere avrei bisogno di leggermelo io con un po' di calma se posso portarmelo a casa e studiarlo in questo modo francamente no io chiederei la grazia di potermi astenere il re dice sì certo ha ragione effettivamente è inutile chiedere un parere il ministro ha già studiato il progetto meglio di così non potrebbe venire fuori perciò io vi chiederei senz'altro se lo approvate il consiglio approva Saint-Simon così fu chiusa questa faccenda sanguinosa e immediatamente dopo firmata sigillata registrata fra i singhiozzi soffocati e pubblicata fra il pianto generale il prodotto non si avvicinò neanche lontanamente a quello che si erano immaginati in quella commissione di antropofagi e il re non pagò neanche un soldo in più di quel che faceva prima in compenso tutti quanti vennero spremuti ancora una volta solo i finanzieri si salvarono perché era impossibile sapere cosa avevano davvero in portafoglio questa è la situazione quando nel 1715 muore il re sole l'erede è un bambino quello che sarà poi Luigi XV è il pronipote del re sole il re sole è vissuto molto a lungo gli è morto il figlio gli è morto il nipote adesso l'erede è il pronipote è un bambino perciò ci sarà una reggenza per otto anni dal 15 al 23 per otto anni la Francia è governata da un reggente il duca d'Orléans zio del piccolo re durante la reggenza viene fuori che appunto la situazione finanziaria è catastrofica bisogna assolutamente fare qualcosa cosa facciamo? una proposta è di dichiarare bancarotta lo si può fare altri re in passato l'hanno fatto il re dichiara bancarotta vuol dire semplicemente che il re dichiara che i suoi debiti sono annullati non pagherà nessuno questa misura provocherà disastri impoverimenti rovina di molti ma salverà il regno mentre discutono seriamente se dichiarare bancarotta capita a Parigi un signore che promette di avere la soluzione è uno scozzese si chiama John Law come la legge Law John Law è un economista di una famiglia di banchieri i banchieri sono dappertutto in questa storia io cerco di non parlarne male naturalmente data la sede in cui ci troviamo giudicherete voi i banchieri John Law è un banchiere ma è un tipo strano è uno che alle spalle ha una storia turbolenta qualche anno prima ha ucciso un uomo in duello per una storia di donne avendo ucciso un uomo in duello in Inghilterra la legge è piuttosto severa è stato condannato a morte ed è rimasto a lungo in galera in attesa di essere impiccato poi siccome aveva dei buoni avvocati è riuscito a far derubricare il reato a omicidio colposo per omicidio colposo si può uscire su cauzione quindi John Law è uscito su cauzione dopodiché ha pensato bene di svignarsela dal Regno Unito ha cercato riparo sul continente e sul continente ha cominciato a pubblicare opere di economia ha pubblicato un trattato è molto interessante John Law da certi punti di vista di una modernità impressionante John Law dice il nostro sistema per cui usiamo moneta fatta d'oro o d'argento è assurdo l'oro e l'argento di per sé non solo non hanno nessun valore di per sé ma poi è un valore che non puoi controllare scoprono nuove miniere d'oro e il valore dell'oro scende e invece per qualche motivo la gente non lo vuol mettere troppo in giro lo tesaurizza e il valore dell'oro sale sono tutte assurdità dovremmo avere una moneta di carta vi ho detto nel Regno di Francia circolavano già questi pagherò del re ma John Law sostiene proprio che bisognerebbe abolire la moneta metallica e introdurre soltanto qualcosa che noi abbiamo fatto solo nel secolo scorso sostanzialmente naturalmente se uno fabbrica dei biglietti di banca perché la teoria di John Law è proprio questa bisogna creare una banca centrale che produca che stampi biglietti di banca e come si fa a garantire che hanno un valore questi biglietti di banca John Law dice esiste un'unica vera ricchezza nel Regno ed è la terra la proprietà terriera vedete come a inizio settecento ci sono da un lato aspetti di straordinaria modernità nel modo di pensare e al tempo stesso vivono ancora in un mondo che da millenni ragiona invece in un altro modo è a terra la ricchezza quindi Law dice il re deve solo far misurare tutta la terra che esiste nel Regno poi in proporzione alla terra e metteremo i biglietti di banca ogni biglietto di banca permette di acquistare un ettaro di terra supponiamo a questo punto la gente saprà che il valore dei biglietti di banca è garantito fisso immutabile dal continente dove è scappato per non essere di nuovo arrestato per omicidio colposo visto che dopo aver pagato la cauzione se l'è svignata all'inglese dal continente John Law spedisce a Londra questo progetto il governo inglese ricevendo il progetto di questo scozzese omicida e latitante reagisce ovviamente dicendo questo è un matto John Law decide di tentare la fortuna da un'altra parte e arriva a Parigi a Parigi è reggente come vi dicevo il duca d'Orléans il duca d'Orléans è una bravissima persona simpatico benintenzionato ha però alcuni grossi difetti è enormemente pigro non ha voglia di lavorare passa il tempo fra i piaceri e i bagordi perché è un debole che non resiste alle orge alle ubriacature alle donne però è molto benintenzionato ha un altro piccolo difetto che come dire come molti ormai alla sua epoca in un mondo che ufficialmente è ancora profondamente cattolico il duca d'Orléans è assolutamente ateo non crede in Dio e gli fa piacere che si sappia perché gli sembra di fare bella figura di persona intelligente di conseguenza ostenta questo suo ateismo questa sua irriverenza cosa vuol dire ostenta beh le orge più clamorose cerca di metterla in programma per il venerdì santo per esempio e tuttavia benché non crede in Dio una delle sue manie da sempre è che gli piacerebbe evocare il diavolo ha speso cifre enormi pagando imbroglioni e maghi che gli promettono di evocare il diavolo San Simón dice capito in Dio non ci crede ma nel diavolo sì e quindi è sempre circondato di truffatori e imbroglioni questo è l'uomo che governa la Francia quando arriva a Parigi John Law col suo progetto sono fatti per capirsi la situazione finanziaria è rovinosa il debito dello Stato in quel momento equivale a dieci anni di entrate per capirci in Italia oggi il debito pubblico equivale grossomodo mi pare a tre anni di reddito dello Stato qui eravamo a dieci volte il reddito annuo ma John Law ha la soluzione il reggente lo autorizza si procede per piccoli passi per prima cosa si crea una banca privata che prende il modesto nome di banca generale e questa banca comincia a emettere azioni e su queste azioni pagare una grossa rendita la gente è contenta di questa grossa rendita compra volentieri le azioni della banca il reggente essendo d'accordo con Law gli dà una mano le azioni della banca potranno essere accettate dal fisco in pagamento delle imposte a questo punto chi è che non le vuole queste azioni le azioni circolano aumentano di prezzo la banca continua a stamparne di nuove a sua volta la banca accetta in pagamento i vecchi pagherò i vecchi biglietti di zecca che erano in giro da tanto tempo il debito pubblico in sostanza e quindi il debito pubblico pian piano diminuisce perché la banca accetta le vecchie cambiali apparentemente John Law è veramente un mago sono tutti contentissimi passo successivo a questo punto inventiamo il biglietto di banca la banca comincia a emettere non azioni ma proprio quelli che sono che anche noi riconosceremmo come biglietti di banca sono biglietti tutti uguali standardizzati stampati dove c'è scritto ricordate i nostri vecchi biglietti di banca in lire che c'era scritto lire mille pagabili a vista al portatore oggi sui euro non c'è più scritto niente del genere l'euro è l'euro è una cosa astratta ma le vecchie lire erano ancora diciamo in teoria l'idea era ancora questo biglietto da mille lire non sono mille lire le mille lire te le dà la banca se vuoi quando tu vai a portarle il biglietto pagabili a vista al portatore il sistema di law è pubblicare stampare biglietti di banca con tutte le firme come c'è anche oggi anche sugli euro la firma del tesoriere della banca che garantisce con su scritto pagabile la banca promette di pagare a vista al portatore cento franchi mille franchi e così via a questo punto cosa succede la gente si è abituata che le azioni della banca rendono bene e quindi anche i biglietti di banca il pubblico li accetta abbastanza volentieri anche perché sotto sotto tutti dicono intanto io i luigi d'oro me li tengo in cassaforte evito di spenderli finché spendiamo questi biglietti di banca e questo è proprio quello che John Lau desidera perché la sua idea è che bisognerà arrivare a mettere fuori legge il denaro d'oro d'argento e dovranno circolare solo i biglietti di banca chi garantisce che la banca pagherà la monarchia perché il reggente è d'accordo è convinto che Lau sia davvero un mago e di conseguenza la monarchia garantisce i biglietti della banca dopo un po' ci si dice però dato che il sistema funziona bene stampiamo biglietti si stampano biglietti in teoria i biglietti sarebbero garantiti dal capitale della banca ma a un certo punto si comincia a pensare che è un peccato limitarsi a questo è così bello stampare biglietti e circolano e il debito pubblico sta diminuendo questo è meraviglioso sta davvero diminuendo rastrellano i vecchi pagherò e mettono in giro i nuovi biglietti però onestamente non possiamo garantire tutti questi biglietti di banca sul capitale che abbiamo in cassaforte e allora allora Lau ha un'altra idea geniale stiamo all'inizio dell'espansione coloniale la Francia pensa di poter diventare una grande potenza coloniale all'inizio del settecento ha il Canada ha la Louisiana prevede alle Antille prevede grandi allargamenti in America e si prevede che l'America darà ricchezze fenomenali allora i biglietti della banca vengono garantiti sulla promessa che tanto arriveranno enormi ricchezze dall'America e Lau crea una compagnia commerciale autorizzata dalla monarchia gemella della banca la quale compagnia commerciale ottiene dalla monarchia il monopolio di tutti i commerci con le colonie capite cosa vuol dire il monopolio del tabacco il monopolio dello zucchero è una cosa colossale l'eldorado a questo punto il pubblico è contento e continua a fidarsi ormai la banca è gemellata con questa compagnia la quale compagnia già che ci siamo John Lau e il reggente appunto si capiscono benissimo la compagnia ottiene anche dal governo il monopolio nella riscossione delle imposte vi dicevo che le imposte sono riscosse da imprenditori privati Lau mette le mani anche su quello e quindi circolano le azioni della banca circolano i biglietti di banca lo stesso uomo è presidente della banca presidente della compagnia che ha il monopolio di tutto il commercio con le colonie è presidente della compagnia che riscuote tutte le imposte del regno il prezzo delle azioni sale la gente è entusiasta è una delle prime bolle finanziarie della storia è passata alla storia come la bolla del mississippi perché la compagnia che deve sfruttare le colonie americane si chiama appunto la compagnia del mississippi un sacco di gente fa un sacco di soldi per la prima volta nella storia della lingua francese viene inventata una parola che prima non esisteva la parola milionario di colpo si comincia a parlare dei milionari che hanno accumulato milioni di franchi speculando sulle azioni il reggente decide di andare ancora un po' più in là John Law non ha ancora in mano proprio tutte le leve c'è ancora il posto di ministro delle finanze lo facciamo anche ministro delle finanze qui salta fuori che c'è un piccolo problema siamo nel cattolicissimo regno di Francia benché il reggente sia notoriamente ateo e faccia le orge a Pasqua però nel cattolico regno di Francia uno scozzese protestante non può diventare ministro John Law decide che a lui il cattolicesimo è sempre interessato molto e comincia a frequentare i gesuiti e viene convertito e si converte al cattolicesimo a questo punto può diventare anche ministro delle finanze e ora che ha tutto in mano decide di attuare il suo piano un po' per volta metteremo fuori legge l'oro e l'argento rimarranno solo i biglietti di banca e si deve cominciare facendo delle pressioni qui devo dire l'analogia è incredibile col problema che abbiamo oggi di ridurre l'uso del contante e favorire il passaggio alla moneta elettronica che in teoria un giorno dovrebbe essere l'unica forma di moneta e allora si mettono degli ostacoli all'uso del contante il ministro che è sempre Law stabilisce il divieto di tenere in casa più di 500 franchi in oro oggi è vietato spenderli in contanti più di 3000 euro in una secca allora lui dice è vietato tenerli in casa naturalmente cominciano le denunce anonime e la polizia comincia le perquisizioni a casa della gente per trovare l'oro fuori legge a questo punto la gente comincia a preoccuparsi perché sui biglietti di banca c'è scritto mille franchi pagabili a vista al portatore e questo vuol dire in buon francese che io domani vado in banca e mi danno mille franchi in oro ma se comincio a sospettare che il governo con l'oro ce l'ha e che minaccia di metterlo fuori legge allora io potrei anche preoccuparmi il pubblico si preoccupa qualcuno si lamenta giornalisti pubblicisti cominciano a uscire lamentele contro il ministro siamo nella monarchia assoluta chi si lamenta pubblicamente viene arrestato ed è portato nelle colonie dopodichè l'opinione pubblica ufficialmente non protesta più ma la preoccupazione serpeggia e finalmente arriva il momento in cui fatti due conti qualche grosso speculatore detentore di un'enorme quantità di biglietti di banca decide di andare in banca a farseli pagare in oro i primi sono guarda caso alcuni grossi nobili principi del sangue il duca di borbone il principe di conti gente che ha come dire le antenne e le informazioni giuste l'insider trading naturalmente non è stato inventato da noi questi che hanno le informazioni giù ecco un bel giorno la gente vede il duca di borbone cugino del re che personalmente già che c'è accompagnato da una serie di lacchè con le valigie si presenta in banca e cambia tutti i suoi biglietti di banca in monete d'oro a questo punto naturalmente è il panico la folla si precipita alla sede della banca in Rue Cancampoie a Parigi che giustamente è una vietta proprio dietro la borsa anche oggi a Parigi il quartiere degli affari è quello la folla si precipita 17 morti schiacciati alle porte della banca la banca però un po' paga poi chiude e il reggente non ha altra alternativa se non dichiarare che i biglietti della banca sono fuori corso ci dispiace ma non pagheremo nessuno il tesoriere e il direttore della banca che firmavano i biglietti finiscono naturalmente alla bastiglia dritti filati John Law è scappato in tempo ha avuto anche lui una soffiata ha lasciato il regno e è andato a Venezia dove nessuno gli può mettere le mani addosso e dove morirà anni dopo a questo punto lamentele generale una quantità di speculatori rovinati il reggente devo dire gestisce la cosa decorosamente per esempio una cosa che anche oggi se si riuscisse oggi lascerebbe tutti stupefatti decreta che con quel poco che c'è riusciamo a pagare qualcosa ovviamente ai risparmiatori truffati e si comincia a pagare i piccoli i piccoli in gran parte riescono a rientrare di quello che avevano speso molti grossi sono rovinati ma intanto il debito pubblico effettivamente è evaporato tutto sommato le finanze della monarchia sono più solide di quanto non fossero prima c'è solo un piccolo problema l'idea della carta moneta era una buona idea ma in Francia per due secoli nessuno parlerà più di carta moneta sarà assolutamente impossibile anche solo menzionare al pubblico francese l'idea di far circolare dei biglietti di banca dopo l'esperienza che hanno fatto col sistema di Law voi direte siamo molto lontani dalla rivoluzione francese quando è che ci arriviamo? siamo ancora nel 1720 effettivamente ma in realtà la bolla del Mississippi e il suo crollo con tutto questo caos generale davvero alla fine lascia alla monarchia la sensazione che le cose non vanno poi più così male effettivamente lo dicevo il debito pubblico è quasi sparito si può ricominciare a prendere in prestito si può ricominciare a fare debito la regenza finisce il re bambino è diventato giovanotto sarà il re Luigi XV che regnerà per una cinquantina d'anni passerà alla storia come Luigi il bene amato in realtà gli storici sono tutti abbastanza d'accordo che fosse uno scemo che il suo regno sia stato disastroso tra l'altro la Francia combatte e perde la guerra più importante del secolo la guerra dei sette anni che è la guerra coloniale per cui i francesi perdono il Canada e vengono buttati fuori dall'India e quindi viene fuori già chiaramente che l'Inghilterra è la grande potenza del futuro ma la Francia quasi non se ne accorge e continua a illudersi di essere lei la grande potenza è una cosa che i francesi non hanno mai perso del tutto naturalmente e del resto la Francia è ancora la capitale del mondo dal punto di vista intellettuale è l'epoca degli illuministi avete presente Voltaire ecco i filosofi francesi spadroneggiano in tutte le capitali d'Europa la Francia si sente forte ricca prospera culla della civiltà è il re Luigi XV che ama i suoi piaceri e ha tante amanti costose in particolare la Madame de Pompadour e il re Luigi XV spende e spande e i suoi ministri prendono in prestito per quasi 50 anni si fa finta di niente come vedete ci siamo avvicinati rapidamente nel 1774 Luigi XV il bene amato muore sale al trono suo nipote Luigi XVI nessuno potrebbe immaginare che neanche 20 anni dopo lascerà la testa sulla ghigliottina è il re di una monarchia assoluta che continua a considerarsi il paese più potente del mondo Luigi XVI è una gran brava persona tutti i pareri che abbiamo dei suoi insegnanti quando era ragazzo eccetera dicono è una nullità totale però è benintenzionato sale al trono vuole capire come funzionano le cose gli illuministi da tanto tempo che parlano di riforme di un ancien regime che deve essere migliorato e lui gli ascolta facciamole queste riforme va a vedere com'è la situazione delle finanze la situazione delle finanze a questo punto dopo 50 anni è di nuovo catastrofica il debito pubblico è spaventoso a questo punto il copione di quel pezzetto di lezione che ci aspetta ancora è il seguente cerchiamo un economista che abbia la ricetta per rimettere tutto a posto e uno dopo l'altro arrivano gli economisti ognuno con la sua ricetta e uno dopo l'altro diventano ministro delle finanze fra l'entusiasmo generale e nel giro di pochissimo tempo vengono cacciati via fra gli insulti perché la ricetta non ha funzionato ma l'interessante è che le ricette sono tutte diverse c'è tutto un panorama delle opzioni possibili il primo ministro il primo che viene fatto ministro delle finanze dal re pieno di buone intenzioni Luigi XVI certo ha anche delle palle al piede Luigi XVI ha questa moglie frivola la Maria Antonietta che spende spande però Luigi XVI davvero vorrebbe passare alla storia come il padre del suo popolo come l'uomo che ha cercato davvero di rendere più prospero il regno e allora sceglie un economista come ministro delle finanze questo economista si chiama Thurgo Thurgo è amatissimo dagli illuministi è amatissimo dalla buona società dei salotti di Parigi oggi si parla ogni tanto dei salotti romani dove si decidono le cose all'epoca sono i salotti di Parigi Thurgo è un uomo integerrimo devoto al bene pubblico tutti sono sicuri e sanno che è così non c'è il minimo dubbio è molto interessante perché il ministero Thurgo ci dimostra una cosa che la storia dimostra spesso e che non è bello sentirsi ricordare però e cioè che il fatto che vada al potere uno che è una bravissima persona integerrima con le migliori intenzioni non è assolutamente una garanzia che poi le cose vadano meglio anzi Thurgo diventa ministro fra l'entusiasmo di un pubblico che dice ecco vi leggo un brano da una lettera di una grande ama salotti di Parigi appunto adesso abbiamo Thurgo ministro siate sicuri che il bene si farà e si farà anche meglio perché ormai come dire sono le luci la virtù l'amore del bene pubblico le luci l'illuminismo capite no l'amore del bene pubblico al governo mai no mai un uomo più virtuoso più disinteressato è stato al potere vedrete questo ministero lascerà una profonda traccia brutta epoca per i furfanti e i cortigiani queste sono le speranze con cui viene accolto al ministero Thurgo Thurgo è un ultraliberale lo Stato deve intervenire il meno possibile ridurre le imposte soprattutto eliminare i dazzi far circolare liberamente le merci alla base ha anche lui un'idea simile a quella di John Law la vera ricchezza è la terra ma sentite il ragionamento che ne viene fuori la vera ricchezza è la terra quindi noi dobbiamo tassare la ricchezza quindi tasseremo i prodotti della terra la terra produce tutta la ricchezza esistente viene fuori dalla terra che siano i prodotti agricoli o che siano i metalli i minerali tutto ciò che abbiamo viene fuori dalla terra noi tasseremo lì e poi non tassiamo più nient'altro e quindi quelli che poi i prodotti li commerciano li trasformano gli industriali che con i metalli producono delle cose e poi i mercanti che li portano all'estero su tutto questo nessuna imposta gli industriali e i mercanti sono entusiasti c'è però un gruppo che è meno entusiasta e sono i membri della ferme generale ricordate è la società privata che riscuote tutte le imposte del regno e che si arricchisce tanto più quanto più sono le imposte naturalmente e più sono diversificate e più c'è da mangiare i fermier generaux si oppongono fermamente a Turgot Turgot va avanti lo stesso aboliamo tutte le imposte sul commercio del grano che è il commercio più importante in un mondo di poveri dove la maggior parte della gente mangia pane aboliamo tutte le imposte sul commercio del grano purtroppo però l'economia non è una scienza esatta e ogni tanto ci sono delle ironie quello stesso anno il raccolto del grano è disastroso e di conseguenza il prezzo del grano schizza alle stelle e i poveri fanno la fame e di chi è la colpa? del ministro Turgot che ha voluto abolire tutte le imposte e i controlli sul commercio del grano risultato? il grano è aumentato di prezzo la gente al di là di questo non vede ed è anche difficile dargli torto visto che muoiono di fame di conseguenza cominciano le rivolte le insurrezioni per il grano il ministro Turgot è costretto a reprimerle con la forza la sua popolarità comincia a diminuire il re gli dice quel che abbiamo fatto finora chiaramente non basta qual è il prossimo passo? bancarotta? no 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 Turgot è assolutamente contrario niente bancarotta è una cosa disonesta e allora aumentare le tasse? mai Turgot è un dogmatico liberale le tasse sono di per sé è una brutta cosa non le aumenteremo allora ci indebitiamo ancora di più? no non va bene neanche quello il debito pubblico è una brutta cosa bisogna ridurlo questo punto ma allora scusate allora che cosa facciamo esattamente? e qui ahimè non rimangono molte altre soluzioni Turgot dice ridurre le spese tagliare il bilancio dei ministeri tagliare le pensioni d'oro si provano non stupisce che si faccia degli altri amici tutte le persone più importanti e influenti del regno prendono stipendi d'oro pensioni d'oro la popolarità di Turgot rapidamente crolla il re è indignato ma come? è possibile che nessuno sia disposto a fare un piccolo sacrificio? Luigi XVI testuale ci siamo solo Monsieur Turgot e io che amiamo il popolo dopodiché l'opposizione è tale che Turgot viene destituito è rimasto al ministero meno di due anni il suo successore Cluny de Nuit arriva con molta sicurezza dicendo lo so che si dice che il ministro delle finanze non muore mai in carica intende dire che si rimane così poco tempo perché si viene subito cacciati via lo so che si dice che il ministro delle finanze non muore mai in carica vedrete che io smentirò questa diceria dice il nuovo ministro Cluny de Nuit bisogna trovare soldi Cluny de Nuit ha un'idea geniale anche qui inventano la lotteria la lotteria non esisteva ancora la inventano adesso è l'eldorado la gente la gente paga tu metti in vendita i biglietti della lotteria la gente li compra poi tu una piccola parte del ricavato la dai in premio fantastico Cluny de Nuit all'idea della lotteria siamo nella Francia del settecento profondamente corrotta marcia e tuttavia molti criticano questa novità dicendo è una vergogna che lo Stato si arricchisca giocando così sulla voglia di giocare d'azzardo della gente è più di quello che si senta dire spesso oggi in proposito dopodiché Cluny de Nuit oltre alla lotteria altre idee non ne ha si scopre che la lotteria non basta il buco del bilancio è sempre più largo Cluny de Nuit si trova in difficoltà ma non dovrà risponderne a nessuno perché cinque mesi dopo essere andato al ministero muore improvvisamente i maligni anzi non i maligni le canzonette ci sono già gli chansonniers le canzonette politiche satiriche all'epoca girano le canzonette e l'aveva promesso che sarebbe morto al ministero infatti Luigi XVI a proposito della scelta che aveva fatto nominando Cluny de Nuit credo che ci siamo di nuovo sbagliati avanti il prossimo arriva un altro economista che ha la ricetta miracolosa stavolta si chiama Jacques Necker è uno svizzero di Ginevra lui è tutto il contrario di Turgot tasse intervento economico dello stato e così rimetteremo le cose a posto c'è ancora sempre quel piccolo problema che anche Necker è protestante non lo possono fare ministro lo fanno però direttore generale del ministero e mettono come ministro un uomo di paglia di fatto chi comanda è Necker Necker comincia a applicare la sua teoria lavoriamo sulle imposte sulle tasse sull'intervento dello stato ma il fatto è che si presenta un nuovo problema è scoppiata la rivoluzione americana avete presente 1776 nel 1776 scoppia la rivoluzione americana l'Inghilterra si trova subito in difficoltà perché ci interessa questa cosa ma perché l'Inghilterra e la Francia sono nemiche l'Inghilterra ha vinto pochi anni fa la guerra dei sette anni ha portato via le colonie i francesi i francesi vedono l'occasione di vendicarsi e ci azzeccano questa è una cosa che spesso non si ricorda ma la rivoluzione americana che è il primo grande momento diciamo la nascita di una democrazia vince la sua guerra contro l'Inghilterra grazie all'aiuto della monarchia assoluta francese la Francia manda flotte manda truppe in sostegno agli americani e alla fine gli americani vinceranno la loro guerra quando gli americani vincono e gli Stati Uniti diventano indipendenti è una grande vittoria anche per la Francia è il 1784 è Luigi XVI è il primo re di Francia che ha vinto una grande guerra non è mai contro la nemica di sempre l'Inghilterra non è mai stato così amato e così popolare Luigi XVI se qualcuno avesse detto fra nove anni ti taglieranno la testa in piazza non ci avrebbe creduto nessuno ma naturalmente c'è un piccolo problema questa guerra è costata l'ira di Dio il debito pubblico è arrivato a livelli sconvolgenti missione care deve trovare i modi di fare i soldi si inventa qualcosa metteremo in vendita dei buoni del tesoro che però anziché garantire il pagamento di una certa somma con gli interessi a scadenza garantiscono fin da subito una rendita vitalizia tu spendi una certa somma e da subito cominci a incassare una piccola somma annua necker che è una persona seria ha studiato ha studiato la speranza di vita ha calcolato quanto a lungo vive in media la gente e sulla base di quello ha fissato l'importo della rendita poi già che c'è ha avuto un'altra idea questa cosa della lotteria ne era rimasta in testa e allora noi faremo così questi buoni del tesoro chiamiamoli così queste rendite vitalizie noi le vendiamo al pubblico a un prezzo fisso 10.000 euro a tranche e la maggior parte garantiscono una rendita di 500 euro sto modernizzando le cifre naturalmente di 500 euro all'anno a vita ma noi faremo anche una lotteria alcuni di questi buoni del tesoro verranno estratti a sorte e i fortunati avranno una rendita di mezzo milione di euro all'anno quindi combina i buoni i bot i cct e la lotteria il successo è enorme peccato che è tutto tarato esattamente sul calcolo della speranza di vita e in quegli anni la speranza di vita comincia a crescere già solo la scoperta del vaccino contro il vaiolo parliamo sempre di cose attualissime i vaccini già solo la scoperta del vaccino contro il vaiolo aumenta di tre anni la vita media di un europeo di conseguenza già da quel punto di vista lì la speculazione si rivela in perdita ma non basta perché per vendere bene questi questi buoni del tesoro queste rendite vitalizie è stato dato il permesso di rivenderle ad altri a questo punto cosa succede le banche fanno incetta le banche fanno incetta e poi le rivendono a loro volta a chi ci guadagna come fai a guadagnarci ecco se sono dimenticati di precisare quando uno la rivende che bisogna calcolare l'età di quello che la compra non c'è scritto da nessuno a cavarte perciò le banche le rivendono alle famiglie che le intestano i bambini appena nati in conseguenza questa grandiosa trovata nel giro di qualche anno manderà in rovina ancora di più il tesoro ma non se ne accorgono subito la rendita va bene tutti comprano il suo valore sale tutti sono contenti e Messio Necker è un mago abbiamo pagato anche la guerra americana senza dover aumentare le tasse poi ogni tanto Necker va a vedere gli viene male quando si rende conto del libero del debito pubblico che sta salendo ma non lo si dice a nessuno siamo nella monarchia assoluta i giornali pubblicano solo quello che vuole il governo se un giornalista parla troppo finisce alla bastiglia e quindi il pubblico non sa niente solo Messio Necker nella sua stanza al ministero sa che il debito pubblico sta salendo 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 a un certo punto anche lui va dal re e dice maestà bisogna ridurre le spese bisogna ridurre le spese della corte le pensioni d'oro ma Necker sa quello che oggi non sempre si sa oggi viene detto a volte è inutile la lotta alle pensioni d'oro ai costi della politica perché sono irrisori rispetto al debito pubblico questo non vuol dire che non si debba farlo secondo me per quel che vi interessa come penso io ma insomma secondo me queste cose vanno fatte ma hanno un valore simbolico hanno il senso di dare un senso di comunità in cui tutti dividono i sacrifici e si evitano gli eccessi ma certamente non servono i tagli ai costi della politica a rimettere in piedi il bilancio al tempo di Necker le spese della corte che tutti vedono e che quindi i francesi criticano ferocemente che fanno odiare Maria Antonietta e i suoi cortigiani le spese della corte però rappresentano l'uno per cento del bilancio e quindi non è che ci sia da tagliare chissà quanto fatto sta che quando viene fuori che nonostante la ricetta miracolosa di Necker però alla fine la rendita non funziona e di nuovo il buco di bilancio è sempre più speventoso anche Necker viene licenziato arriva l'ultimo si chiama Calon Calon ha un'altra teoria il debito pubblico è indispensabile è assurdo pensare di ridurlo ci strangoleremo dobbiamo continuare ad aumentare il debito pubblico dobbiamo continuare a farci prestare soldi come si fa a farci prestare soldi il pubblico non si fida mica più tanto bisogna che il pubblico si fidi non si deve sapere che c'è un buco di bilancio spaventoso e perché non si sappia dobbiamo far vedere che invece siamo ricchi spendere la ricetta di Calon è spesa pubblica in tutti gli ambiti non come dirà poi Keynes in un altro contesto per creare lavoro no no per creare credito la monarchia deve apparire straricca in modo che tutti prestino senza farsi problemi guai se si scopre qual è la situazione vera perciò spesa pubblica da tutti i parti e ovviamente il re e la regina sono contenti la regina da tanto tempo voleva comprarsi un nuovo castello il castello di Saint-Cloud e il re suo marito a dirle ma cara abbi pazienza con la situazione attuale non ce lo possiamo permettere il ministro Calon dice ma no perché no certo che ce lo possiamo permettere compriamo il castello di Saint-Cloud 6 milioni di franchi le feste a Versailles i balli di corte la musica l'opera il teatro concerti spesa 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 perché perché così la corte è contenta i banchieri sono contenti la borsa sale l'entusiasmo è generale si arriva così all'estate 1786 nell'estate 1786 Calon fa i conti gli interessi sul debito pubblico gli interessi e non la restituzione gli interessi sul debito pubblico mangiano il 51% del bilancio per capirci oggi in Italia gli interessi sul debito veleggiano sull'8% grossomodo del bilancio dello Stato qui siamo al 51% ovviamente se uno guarda un bilancio dell'epoca è molto diverso dai nostri la spesa successiva 26% sono le spese militari l'esercito la flotta le fortezze per assistenza e istruzione la monarchia francese del settecento spende il 2% del bilancio ma comunque sia il 51% in interessi del debito è una cosa inconcepibile Luigi 16 questo me lo sto inventando non è agli atti ma sicuramente avrà detto ci siamo sbagliati un'altra volta quello che è certo è che licenzi a Calon e a questo punto e a questo punto il paese che sta scoprendo la verità pretende una cosa con cui noi oggi chiudiamo il paese pretende che il re convochi gli stati generali convocare gli stati generali cosa vuol dire gli stati generali sono un'antica istituzione i re francesi del medioevo li convocavano regolarmente perché nella Francia medievale nessuno avrebbe tirato fuori un soldo in tasse solo perché il re aveva detto ho deciso di aumentare le tasse un re francese del medioevo per mettere delle tasse doveva radunare un'assemblea in cui venivano i principi i baroni i nobili e venivano i vescovi gli arcivescovi il clero e venivano anche i mercanti i borghesi delle città quelli che avevano i soldi e a tutta questa gente riunita i nobili il clero i mercanti si dice anche i tre stati a tutta questa gente riunita il re e i suoi ministri dovevano spiegare ci servono soldi dovevano dire quanti soldi servivano perché motivo e l'assemblea discuteva e poi magari approvava senza gli stati generali un re francese del medioevo non poteva imporre neanche un soldo di tasse chiaramente ai re stava un po' stretto questo controllo noi siamo partiti dicendo la Francia di Luigi XIV è una monarchia assoluta la Francia del seicento era diventata una monarchia assoluta perché il re ormai era così forte che poteva imporre le tasse senza dover convocare gli stati generali li hanno convocati per l'ultima volta nel 1614 dopo di allora per un secolo e mezzo i re di Francia hanno governato senza più questa assemblea ma che questa assemblea era esistita in passato la gente se lo ricordava se lo ricordavano soprattutto i nobili che agli stati generali contavano molto erano il primo stato il clero era il secondo stato tutti gli altri il terzo stato che contava poco però bisognava convocarlo perché sono i mercanti che hanno i soldi poi ecco e nella Francia del 1788 si comincia a dire gli stati generali quanto tempo è che non li convochiamo e guardate dove siamo andati a finire il re non può continuare così deve ascoltare il paese e quelli che insistono più di tutti sono i nobili senza sapere che fra tre o quattro anni saliranno sulla ghigliottina insieme al re vogliamo gli stati generali vogliamo mettere sotto controllo la monarchia il re è costretto a promettere che convocherà gli stati generali e li convoca ha anche richiamato Necker al ministero nella disperazione il re e Necker aprono gli stati generali cercando di parlare del buco di bilancio gli stati generali ascoltano esterrefatti apprendendo che il buco di bilancio è molto più spaventoso di quello che pensavano e però a questo punto dicono noi la ricetta non ce l'abbiamo ma non è neanche il problema più importante il problema più importante è che non si può più continuare con la monarchia assoluta bisogna che questo paese in futuro sia governato in un altro modo bisogna che il re accetti di procedere con il continuo consiglio degli stati generali che sia un'assemblea che rappresenta il paese e il re non può più continuare a governare da solo il risultato lo sapete il re per un po' esita poi prova a far sciogliere gli stati generali gli stati generali rifiutano noi siamo il paese noi siamo il popolo noi abbiamo il potere il re senza di noi non è nulla il re prova a farli sciogliere a forza dall'esercito Parigi insorge 14 luglio 1789 presa della Bastiglia da quel momento gli stati generali diventano l'assemblea nazionale il parlamento che rapidamente si impone come unico vero potere legale in Francia il re per un po' convive coesiste ma sotto sotto non sopporta questa umiliazione comincia a tramare con le potenze straniere perché invadano la Francia la cosa viene scoperta il re e la regina sono arrestati nella situazione ovviamente è estremamente tesa la gente è spaventata si cominciano a tagliare le teste e comincia la fase del terrore della rivoluzione francese per chiudere ultimissima cosa fra tante teste che si tagliano processi continui contro tutti quelli che sono considerati colpevoli di aver tramato con il re per abbattere gli stati generali di aver tramato per ristabilire la monarchia assoluta oppure di aver profittato ecco tutti lo stato d'animo è adesso devono venire a rendere conto tutti i profittatori perché se non c'è un soldo è perché tutti hanno mangiato adesso il popolo li giudicherà un bel giorno venne aperto un grande processo contro tutti i fermier genero cioè contro tutti i finanzieri tutti quelli ancora vivi che sotto la monarchia avevano gestito la riscossione delle imposte vengono processati tutti insieme e l'otto maggio 1794 28 finanzieri ex fermier genero vanno tutti insieme alla ghigliottina e ci sarebbero tante altre cose da raccontare ma insomma credo che il senso complessivo di questa storia a questo punto non sia sfuggito a nessuno grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti buona serata e all'anno prossimo allora grazie a tutti